Le parole con cui voglio introdurre questa storia, dicevo, sono importanti, sono belle e significative. Le pronunciò nel IV secolo d.C. durante un'omelia a Costantinopoli, San Giovanni Crisostomo, il quale diceva Il tuo amore è per me più dolce e più caro di tutto il resto. Se dovessi perdere tutto, se dovessi soffrire, non avrò paura se solo conservo il tuo amore. Queste stupende parole sembrano fuori dal mondo, lontane nel tempo, pronunciate, dicevo, da San Giovanni Crisostomo a Costantinopoli nel IV secolo d.C., eppure di certo le ha, se non pronunciate proprio in questi termini, ma sicuramente pensate, Luca le ha comunicate ad Anna Maria e forse anche a Anna Maria Luca, anzi sicuramente, nel momento in cui si sono innamorati. Dico bene? Sì, certo. Avete vissuto questo innamoramento in maniera, all'inizio, molto, molto forte, in grande trasporto, no? Quando ci siamo conosciuti, effettivamente, ho proprio perso la testa, non vedevo altra persona che lei, e queste parole, secondo me, proprio mi sono entrate nel cuore e probabilmente uscite anche dalla bocca. Anna Maria conferma? Sì, per me è stato un po' più lento l'innamoramento, non è stato proprio il colpo di fulmine, però io vedevo in Luca tante qualità che io non avevo, e così proprio mi sembrava che fosse una parola per me, mandata per me. Luca e Anna Maria, innamorati, sposati, tre figli, poi i litigi furiosi, il tradimento, la separazione, tutto finito come tante storie che nafragono, con tante separazioni, che finiscono in quella che oggi sembra essere l'unica, ineluttabile, inevitabile conclusione, il divorzio. Ma per voi non è stato così, perché Luca e Anna Maria, invece, li troviamo di nuovo insieme qui, in seguito a quella che io ho definito in apertura, lanciando la vostra storia, una sorta di miracolo. Poi vedremo qual è stato questo evento anche straordinario, come si è concretizzato. Ora però partiamo, se non vado errato, dal 1984, e cioè da quell'innamoramento folle di cui mi ha colpito, per esempio, ho letto le corse nella neve, sfidando le intemperie, è vero Luca? È stata proprio veramente una cosa particolare, perché io ero appena tornato a casa da militare, l'ho conosciuto una festa l'ultimo dell'anno dell'84, proprio, e praticamente lei doveva ripartire, perché doveva andare giù a Urbino dove studiava, noi stiamo a Modena. Quell'anno è venuta un'abbondante nevicata, veramente grande, e io praticamente, lei è rimasta bloccata col treno dalla neve, non passevano più i treni, e io andavo a trovarla, praticamente, dall'altra capo della città, in motorino, e non avevo ancora la macchina, e praticamente c'era sempre tutta questa neve, e tutti i suoi genitori che non è che mi guardassero troppo bene. Mi prendevano un po' come un pazzo, insomma. Dopo il matrimonio, Luca, tu hai detto che mi sembrava di vivere in paradiso, però poi dopo la nascita del primo figlio, Francesco, le prime incomprensioni, poi sono arrivati Davide e Letizia, alla fine è quasi diventato un inferno la vostra vita. Anna Maria, com'è possibile passare da una situazione di grande fusione, di grande unione, di amore, di estasi, di paradiso, cadere invece in una sorta di inferno? È stato che piano piano noi ci siamo suddivisi i ruoli. Io ero a casa con i bambini, e Luca andava al lavoro tutta la giornata, e quei pochi momenti che avevamo alla sera per noi, facevamo fatica a dialogare, a comunicarci le cose. piano piano questa incomprensioni su come fare le cose quotidiane, di tutti i giorni, sono diventate sempre più aspre, fino al punto che io non mi confidavo più con lui, dicevo decido io, faccio da sola. tanto lui non mi capisce, non mi sentivo ascoltata. Questo ha creato poi che ci siamo trovati anche poi dei, piano piano, dei passatempi diversi. Lui usciva con gli amici, e io andavo a ballare, e ci dividevamo le serate in cui uscire. Io per trovare così uno sfogo, un modo di sentirmi valida, poi ho ricominciato a lavorare dopo un po' di tempo, quando i bambini erano diventati grandi. Ma eravate consapevoli che vi stavate allontanando in quel periodo? Cioè eravate consapevoli del rischio che stavate correndo, della frattura che si stava creando? Beh, onestamente all'inizio pensavo, lei dedicava moltissimo delle sue energie ai figli, come giusto, io ero contento di questo, perché era anche una brava mamma, che teneva dietro i nostri bambini, Era la sua missione anche, insomma. Avevano deciso di, proprio insieme, che lei terminasse quello che era il suo lavoro, e dedicasse proprio tutte le energie ai figli. Però praticamente io pensavo che lei, dopo passato il periodo che i bimbi erano piccoli, tornasse un po' a considerarmi un po' di più come marito, e non solo come papà. Questo invece non c'è stato, anzi, proprio nel momento in cui i bimbi iniziamano a crescere, ha dedicato le sue energie altrove, e questo appunto, sì, io sono rimasto ferito. Tu hai detto, piano piano siamo giunti ad essere scapoli sposati, è terribile ma molto significativa questa definizione, e nel 2004 Anna mi ha detto che non mi amava più, e a quel punto tu hai provato un senso di sgomento, quasi come se ti sentissi tradito, no? Non te l'aspettavi? Mi è proprio crollato la terra sotto i piedi, io avevo dedicato tutta la mia vita e ci credevamo, e adesso ci crediamo ancora, a questo matrimonio, eppure in quel momento lì io ho detto cosa ho fatto, cosa ho combinato in questi vent'anni, cioè ho buttato via la mia vita, proprio la sensazione di fallimento più completa. Anna Maria, voglio tornare un secondo sulla questione di questo periodo che vi ha allontanati, no? Dopo il matrimonio, dopo l'arrivo dei figli, cioè questo fatto appunto di dedicarsi sempre di più ai figli, alla casa e poi al lavoro, e mettere in secondo piano il rapporto coniugale. È, diciamo, un errore che ormai è risaputo al giorno d'oggi, cioè anche se si va dal più banale degli psicologi, non mette subito in evidenza questo aspetto, cioè il fatto che questo può essere la causa di una frattura, di un allontanamento. Com'è stato possibile per te cadere in questo errore? Per te e per voi, insomma. Quei pochi momenti che ci prendevamo per noi, per me non erano sufficienti, non erano di qualità. Mi aspettavo di essere ascoltata, come avevo visto nella mia famiglia d'origine, e questo modo di comunicare profondo, intenso, non c'era tra noi, non era spontaneo. Dopo abbiamo imparato a comunicare, ma in quel periodo io non sapevo comunicare, non sapevo parlare in modo da riuscire a farmi capire da Luca, il tono di voce anche. Quindi è un problema proprio di strumento di comunicazione anche, sulla quale bisogna lavorare. Poi vedremo come. Un sabato sera, verso la fine di gennaio 2005, sono sempre parole tue Luca, quando racconti la tua storia, abbiamo litigato furiosamente, non ne potevo più, sono uscito di casa e sono andato a vivere a casa di mia madre. La ragione del litigio è stata banale, però è stato un litigio cruciale. È stata banale la ragione del litigio, perché praticamente aveva litigato a proposito dei compiti di nostra figlia e di come svolgerli. Spesso il problema dell'educazione dei figli è un motivo di scontro, tra moglie e mariti. Era un grosso motivo di scontro, perché io intendevo educarli in un modo, lei però vedeva il mio modo molto duro di educare i figli e appunto prendeva un po' le loro difese. Quindi sminuiva la tua figura agli occhi dei figli? C'era anche questo rischio? Ma sì, c'era anche questo rischio, però non era che... Sì, io ho fatto questo, io lo contraddicevo quando lui sgridava i bambini. Tentavo di occuparmene io il più possibile. E questo è sbagliato, secondo te? Certo che è sbagliato, perché i bambini hanno bisogno della figura del papà, altrettanto come di quella della mamma. Di più, hanno bisogno di vederci insieme. E perché tu cadevi in questo errore? Io avevo una gran paura, avevo paura per loro. Paura di cosa, scusa? Del essere traumatizzati dal tono di voce, dal modo di porsi del papà. E non è giusto avere questa paura? La paura è un sentimento, non è né giusto né sbagliato, però si può affrontarla, si può discuterne insieme, parlare e vedere come educare i figli insieme però. Questo poi lo abbiamo fatto. Luca va via di casa, quindi, ed è il gennaio 2005, quindi la separazione avviene. Mesi lontani, qualche mese lontano, poi arriva un segno, l'inizio di quello che ho chiamato il miracolo, cioè un volantino, un invito, un appuntamento, e mi ha colpito una tua frase, Anna Maria, che dice, occorreva un aiuto ben al di sopra delle nostre forze. Sì, c'erano tante ferite che non erano neanche state dette. L'aiuto a tirare fuori queste ferite è venuto prima di tutto quando abbiamo sentito delle coppie che hanno vissuto delle storie come la nostra e anche peggiori. E questo, vedere che loro erano riusciti a ricostruire, è stato un aiuto che andava al di là di quello che potevamo noi da soli fare mettendoci a parlare noi due. Questo volantino, questo invito, veniva da Retrouveille, ovvero ritrovarsi, dal francese, che è un'associazione che si capisce subito, poi ve lo spiegherete meglio, crea proprio questo collante fra coppie in crisi o separate addirittura e invita nuovamente a ricostruire un dialogo. Adesso vedremo come. Comunque, l'appuntamento è stato a Vago di Verona il 27 maggio del 2005. Un weekend, mi verrebbe da dire un tranquillo weekend di sconvolgimenti e di pianti. Voi l'avete definito una bomba atomica nella vostra vita coniugale. Che è successo? C'ha proprio sconvolto veramente la vita. Non è stata solo una cosa così, un weekend normale. ascoltare le persone che testimoniavano. Sembrava quasi di rivedere la nostra storia attraverso la bocca di altri che avevano vissuto le nostre più o meno stesse vicende, anche se in modo magari completamente diverso. Questo ci ha proprio ribaltato la concezione di quello che eravamo fino a quel momento lì. Quindi avete preso coscienza del baratro in cui eravate caduti, dei vostri errori. questo vi ha creato uno sconquasso a livello emotivo anche di capire. In più questo weekend ci ha dato la possibilità di ricominciare a dialogare tra di noi. Cioè ci hanno dato gli strumenti con cui noi abbiamo potuto cominciare davvero a parlare e ci siamo resi conto del male che ci eravamo fatti in tutti quegli anni. E questo è quello che vi ha provocato una forte emozione. Io adesso mi rendo conto che non è possibile in questa sede in questi pochissimi minuti dire quali sono questi strumenti però per esempio mi hanno colpito tre aspetti e cioè uno dal quale ho fatto già un accenno prima cioè da soli non ce la si fa se non si fa entrare Dio nella nostra vita matrimoniale le forze umane non bastano a tirar fuori a superare appunto certe barriere e certi muri. L'altra che è amare una scelta una decisione da rinnovare tutti i giorni poi c'è anche forse un'altra parola chiave che è lavorare. Lavorare vuol dire proprio mettersi lì insieme dedicarsi del tempo dedicarsi delle energie per conoscere profondamente quello che è l'altro quello che non abbiamo mai fatto forse nel fidanzamento quando si è ancora un po' con le teste tra le nuvole avevi voglia di conoscere l'altro ma come sei come non sei dopo con tutti i problemi tutti i giorni la routine piano piano si perde di vista l'altro questo ci ha permesso proprio di riconoscere l'altro e di conoscere in profondità com'era volendo provare a spiegare qualcuno di questi strumenti Anna Maria il dialogo che viene insegnato come tecnica di comunicazione è poi molto semplice si basa sui sentimenti cioè noi impariamo a condividerci i nostri sentimenti e questo è un terreno neutro dove non si può dire che uno abbia ragione un altro abbia torto perché sentimenti li proviamo tutti sono spontanei nascono dentro di noi nelle situazioni più disparate e ognuno di noi prova sentimenti diversi imparando a condividerci questo aspetto della nostra essere stiamo su un piano neutro per cui possiamo davvero condividere la nostra profondità quello che siamo come viviamo le cose e capiamo che l'altro è molto diverso e impariamo a rispettarlo certo e il weekend a cui poi seguono dei post weekend poi naturalmente un percorso costante perché è chiaro che non è che un weekend può da solo risolvere magicamente non c'è nessuna magia c'è un desiderio di aprirsi e di condividere come dicevi tu Anna Maria però poi dopo un anno e mezzo da questa ritrovata unione tu Luca hai avuto il coraggio la forza di confessare ad Anna Maria un tradimento sì e Anna Maria ha avuto la forza il coraggio non so come altro definirlo di accettare questa tua apertura cioè un'altra persona umanamente sottolinea umanamente al posto tuo avrebbe detto questa è la goccia che fa traboccare il vaso nuovamente la ferita si riapre veramente adesso quella è la porta esci fuori no? sì ma è stato un periodo Luca ha avuto l'accortezza di aspettare che ci fosse fiducia nel nostro rapporto che fosse una relazione più stabile e che potesse reggere questo colpo quando la nostra relazione è stata abbastanza aperta stabile piena di fiducia lui ha potuto dire ci manca un pezzo cioè io mi apro te completamente mi metto nelle tue mani perché a quel punto questo è stato il motivo che ti ha portato a confessare questa cosa non semplicemente un voler dire un aspetto che potevi tenere segreto ma proprio il voler essere aperto completamente sì doveva esserci una fiducia totale tra di noi perché avevamo capito che questo è quello che creava veramente quell'intimità e quell'amore che può far rinascere proprio anche il sentimento dell'amore e può far rinascere veramente la coppia con me fino in fondo c'è la fiducia di essere due persone che aperte senza trasparenti l'uno all'altro un aspetto non l'abbiamo ancora affrontato in un minuto proviamo a dire quelle cose più significative i figli i figli avranno immagino sofferto moltissimo la separazione forse si saranno anche autocolpevolizzati perché so non per esperienza grazie a Dio ma insomma so che può avvenire una cosa del genere però poi quando tu Luca sei tornato a casa come hanno reagito? i figli non credevano ai loro occhi quando gli ho detto che ero tornato a casa per restare a casa con la mamma e che avremmo tentato di ricostruire la nostra relazione loro avevano sofferto veramente tanto si erano chiusi moltissimo e quasi non litigavano più tra di loro per impedire che questo potesse diventare un motivo di ulteriore frattura qual è Anna Maria lo chiedo ad entrambi Anna Maria Luca qual è la frase dei vostri figli che più vi ha fatto soffrire e quella che vi ha dato più gioia in questa parabola che avete vissuto? la frase che più mi ha fatto soffrire è stata quando poi noi abbiamo abbiamo preso il coraggio quattro mani abbiamo parlato con i nostri figli abbiamo detto siccome ci esponiamo anche davanti ad altre persone raccontiamo la nostra storia preferiamo raccontarvela noi piuttosto che qualcun altro vi venga a dire certi particolari quindi gliel'abbiamo raccontata come hanno reagito? in quel momento lì hanno avuto delle reazioni abbastanza forti e il nostro figlio più grande ha detto io queste cose non me le aspettavo perché lui non sapeva tutto tutti i particolari Luca la cosa più gioiosa invece che hai sentito dire ai tuoi figli il fatto che appunto grazie al fatto che eravamo tornati insieme potevano avere di nuovo una famiglia e adesso è bello che anche loro si impegnano delle volte quando hanno degli amici in crisi tentano anche loro di essere testimoni del recupero esatto e di dare anche ai suoi amici questa possibilità questa è la cosa più bella Retruvei dico bene? Retruvei allora c'è un sito web che vi può aiutare chiunque così rimandiamo insomma chiunque ha bisogno di un consiglio si trova in una situazione simile a quella che voi avete vissuto non è perduto nulla anzi voi siete la testimonianza vivente che da quel calvario poi dopo c'è una risurrezione in questo caso la risurrezione del vostro rapporto del vostro amore e della vostra unità coniugale e familiare è un sito sul quale si possono trarre tutte le informazioni per questi famosi weekend bombe atomiche emotive come le avete definiti io prima di vi ringrazio per la testimonianza che ci avete dato seppure con parole sintetiche ma molto efficaci che so che continuerete a dare una brevissima pausa vi lascio però con queste parole di uno scrittore francese François Moriac che forse conoscete e che sicuramente sono sicuro piaceranno anche i nostri amici a casa l'amore coniugale che persiste attraverso mille vicissitudini mi sembra il più bello dei miracoli benché sia anche il più comune a tra pochissimi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti